Il Dipartimento Educazione GAME presenta Tra le pieghe del paesaggio. Hai visto il video sul nostro canale digitale in onda? Ti è piaciuto? Proviamo insieme a realizzare un paesaggio lasciandoci ispirare dalle opere che ti abbiamo mostrato. Ci serviranno fogli bianchi, i normali A4, un cartoncino, va bene anche recuperarlo da una scatola o da una confezione di qualche prodotto. Tutti i tipi di colori che hai in casa, pastelli, pennarelli, acquerelli o tempera, colla vinilica, pennelli. Scegli il tipo di paesaggio che vuoi rappresentare, mare, montagna, colline. Prendi i fogli bianchi e inizia a colorarli pensando a quel luogo. Se è un paesaggio marino ad esempio puoi colorare alcuni fogli di blu, altri di giallo per la sabbia e così via. Dopo aver preparato le tue basi lasciale asciugare. Una volta asciutte dividile a metà e poi divertiti a stropicciarle. Fai attenzione a non romperle. Costruiamo ora il nostro paesaggio partendo dallo sfondo e aiutandoci con la colla vinilica incolliamolo sul cartoncino. Le pieghe che hai fatto ti aiuteranno a rendere il paesaggio tridimensionale. Procedi aggiungendo gli altri elementi con la stessa tecnica per creare le forme che desideri. Alberi, nuvole, montagne. Una volta scelta la composizione incolla il tutto. Buon divertimento!